A guato mortale a Montecorvino Rovella è stato ucciso Vincenzo Persico alias Coca-Cola, figlio del boss Ciro Persico. Vincenzo Persico, che aveva l'obbligo di dimora a Montecorvino Rovella, era a bordo di uno scooter. Il 27enne è stato sparato al torace. Il suo killer era presumibilmente a bordo di un altro motorino. A scorgerlo, riverso per terra, è stato un passante che ha pensato ad un incidente stradale. Una volta trasportato all'ospedale di Salerno, però è emersa la verità. Lo scorso giugno, Vincenzo Persico, coinvolto in una rapina, aveva lasciato il carcere ed era tornato nella sua abitazione del centro storico di Salerno. I suoi avvocati avevano ottenuto gli arresti domiciliari dai giudici della seconda sezione penale. Persico era già stato vittima di un agguato nel novembre del 2008 a Salerno, in un centro scommesso di largo antica corte. Obiettivo del sicario, che aggì col volto coperto dal casco integrale, ferì quattro persone, tra cui un bambino di otto anni doveva essere proprio Vincenzo Coca-Cola, che fu colpito da uno dei proiettili alla gamba sinistra. Stavolta l'agguato è stato mortale. In pieno centro, a Monte Corvino-Rovella, Vincenzo Persico, poco dopo le 18.30, è stato raggiunto al toracere due colpi di arma da fuoco, mentre, come dicevamo, era a bordo di uno scooter in via Cavour. Il motorino è stato trovato 100 metri più avanti. Chi ha soccorso Persico ha pensato che si trattasse di un incidente stradale. L'uomo è morto all'ospedale di Salerno. Indagano i carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Battipaio. È stata un'azione abbastanza cruenta. Come vedete, siamo in piena attività per ricostruirla nella sua esatta dinamica. È naturalmente un omicidio abbastanza afferato e quindi anche il soggetto è di particolare rilevanza. Stiamo lavorando col massimo impegno appunto per ricostruire ogni dettaglio. Ecco, anche la ricostruzione si presenta abbastanza difficile o no? Ci sono dei testimoni? Stiamo lavorando, insomma, è un evento così grave, è successo da appena due ore, insomma, stiamo lavorando con tutto il nostro impegno per ricostruire appunto tutta la dinamica dei fatti. Il giovane è morto all'ospedale, ce lo confermo questo? Sì, è stato soccorso e poi, insomma, è deceduto al San Leonardo. È stato soccorso molto tempo dopo, diciamo... No, no, immediatamente, l'ambulanza è arrivata immediatamente. La reazione di Montecorvino come sta? Beh, forse è ancora troppo presto per parlarne, sicuramente, insomma, era da parecchio tempo che non si registravano episodi del genere, quindi sicuramente c'è una reazione, insomma, di incredulità. Un po' di shock pure tra la gente. Più che altro direi incredulità.